Ciao a tutti bentornati con una volta su Indie Game Play It, oggi un video di news dove voglio notiziarvi di alcune cose riguardo all'uscita prima di tutto di questo gioco di Tin Can che avevo portato mesi fa con Seancaster, se non oltre un anno fa, dove un vostro amico, in pratica in questo caso Seancaster, mi aiutava con il manuale perché ci ritroveremo all'interno di una capsula spaziale definita alla lattina e dovremo sopravvivere il più a lungo possibile. Ora, è assodato che morirete, però più tempo resisterete più scalerete il ranking mondiale dei migliori giocatori al mondo di questo titolo e perché non provarci ad essere i migliori, i più survivalisti al mondo nello spazio. Il gioco è uscito il 12 di maggio, costa 17,99€, li vale? Beh, se vi piacciono questo tipo di giochi sì, anche perché hanno aggiunto alcune modalità. La classica ranking dove cominciate, la sandbox dove potete fare le prove col vostro amico che può essere magari in contatto vocale piuttosto che a fianco a voi con il manuale stampato magari, che può essere carino, c'è il tutorial, ma soprattutto ci sono le challenges. Le challenges sono veramente carine perché, soprattutto la cold start, la cold start vi viene data tutta la capsula completamente smontata, quindi dovete montare tutto, ma in sintesi. Ve ne avvio uno giusto per farvi vedere. Ovviamente la ranked parte con la vostra capsula già partita e dopo qualche secondo parte la prima emergenza, mentre invece le challenge sono curiose perché viene data una modalità simile a quella di 60 seconds, dove praticamente dovete vagare all'interno di questi scaffali con un tempo ovviamente limitato perché sta andando tutto a fuoco, prendendo dei materiali. In questo caso non ne trovo, ho scelto una modalità che non ne ha, in pratica troverete degli oggetti in giro e li potrete prendere e caricare all'interno della capsula. Una volta all'interno della capsula, in questo caso mi fa prendere solo le lattine e non so perché, comunque noi prendiamoci la lattina, ci si abbassa, si entra e alla fine si va a lanciare la capsula premendo il tasto, parte il video, adesso ho saltato il video e ci ritroviamo all'interno della capsula. Molte volte in queste challenge trovate magari i pezzi mancanti di tante cose, quindi non avete magari neanche il pulsante d'accensione, quindi dovete portarveli all'interno e montarvi la capsula in fretta e furia, adesso io ho qualche leggerissimo problema, li dovete montare come sto facendo ora e poi andare ad attivare. Altra cosa carina è il fatto che sono stati aggiunti questi cassetti dove all'interno potete avere i ricambi che inspiegabilmente sono tutti vuoti, quindi a parte quando giocate l'avventura classica, quindi la ranked, dove invece qualcosina c'è all'interno. Dovete ricordarvi di svuotare la bombola dell'anidride carbonica una volta che è piena, farla convertire nuovamente in ossigeno, appunto andare a scambiare le bombole appunto per il sistema vitale, dovete ricordarvi del reattore, le sue riparazioni, piuttosto che qui sotto c'è il generatore della gravità artificiale che si apre qua sotto e dovrete intervenire con questo macchinario al, qua manca un pezzo tra l'altro, mettere all'interno un oggetto rotto, ripararlo, demolirlo per ottenere pezzi di ricambio per ripararne altri e così via. E ogni schermo ha la sua diagnostica, in questo caso ci viene detto che a breve avremo un'anomalia gravitazionale, ma all'interno di ogni impianto, di ogni sistema abbiamo con lo schermo la possibilità di vedere errori. Infatti vedete che adesso stiamo fluttuando leggermente, c'è un'anomalia, in questo caso ci possiamo tenere e spostare, soprattutto quando il sistema di gravità smetterà di funzionare, si guasterà. Potrete andare a togliere ogni singola parte delle varie cose. Tra l'altro questo è un sistema nuovo che nella rank non funziona, è praticamente un beacon di salvataggio, praticamente potrete andare a prendere le varie cose, metterle all'interno della... scusate che non riesco a prenderla... ok, la mettete qua all'interno, chiudete e potete avviare il dismantle piuttosto che il... ma qua vedete che mancano pezzi, quindi in pratica dovete magari andare a prendere una parte magari mancante e metterla dove manca. In questo caso dobbiamo riarrangiarci e attivare magari anche all'interno dovrebbero mancare anche dei componenti. Oddio, eh sì, manca una batteria, manca tutto qua per farlo funzionare e soprattutto speriamo di uscire presto da questa anomalia. Questo è Tinken, davvero interessante come titolo, abbiamo appunto le challenges, la ranked che possiamo far partire, la rescue, cioè varie sfide a supervivere da 6 minuti fino a 30 minuti, abbiamo l'editor dello scenario, quindi avviare la nostra sfida, il gioco poi è fine a se stesso, in pratica dovete sopravvivere. Ecco, questa era la prima news, ma andiamo oltre. La seconda news riguarda Dice Legacy, un gioco che ho portato un anno fa, un gioco che è stato candidato tra i più originali del 2021, aggiunge un DLC, che è il DLC, questo qui, che praticamente dovete sopravvivere all'inverno nella partita normale, sfuggire al destino e vi sbloccherete il DLC. Ma di che cosa si tratta? Beh, per vederlo andiamo sulla pagina Steam. Eccolo qui, questo è Dice Legacy Corrupted Fates, è un... diciamo uscito il 19 di aprile, costa 7,99€ e riguarda l'aggiunta di una nuova tipologia di dadi e di ambientazione. Praticamente ricordate, un gioco in italiano, lo avevo portato, quindi se vi incuriosisce andatevi a rivedere il video, in sintesi vengono aggiunti, vabbè, gli invasori, dadi corrotti, in pratica leggi corrotti, evita di succombere alla follia, viene aggiunta un po' una cosa un po' lovecraftiana al gioco. Nuova classe di dado, appunto, avete i cultisti, 11 nuove tecnologie, 12 nuove leggi e 7 nuove memorie da accumulare, un nuovo sovrano, il vicario e 6 nuovi edifici, quindi una bella espansione, anche nuovi meccanismi, presenza di ultraterrene, la presenza di presenza di ultraterrene, la follia come parametro che va a crescere e poi presenza di cultisti, leggi corrotte. In sintesi questo è il riassunto di questo dirsi che non costa neanche tanto calcolando che il gioco è senz'altro molto valido. Ma procediamo oltre con le news. E come ultima news vi parlo di The Bus. È un gioco che ho ricevuto una vita fa ma non l'ho mai portato perché sto aspettando che venga, diciamo, sviluppato. È in early access, costa 25-26 euro, non è basso ma potrebbe aumentare, secondo me potrebbe arrivare anche sui 30-40 euro. È un simulatore di Pullman. L'ho trovato davvero carino, sebbene appunto io aspetti la modalità economica, quindi la possibilità di assumere, di comprare bus, insomma cose del genere, è ambientato in Germania. Qua abbiamo la mappa che tra l'altro non va. Avete la roadmap che potete vedere poi che vi si apre, diciamo, sul sito. Abbiamo la modalità gioco libero con al momento qualche bus disponibile. Ma la cosa veramente interessante è il fatto, adesso voglio prenderne uno. Abbiamo una mappa sola, modalità di controllo vedete che potete personalizzare, la linea e il tour, quindi le varie fermate potete personalizzare tutto, il meteodinamico io vi faccio vedere questo perché è veramente eccezionale. Allora, io ho gradito molto Tourist Bus Simulator che vorrei approfondire comunque perché l'ho sempre giocato poco. Ho approfondito poco invece altri titoli come Fernbus e cose del genere. Ma la cosa veramente interessante è che potete veramente interagire con tantissime cose. Per quanto adesso stia un pochino laggando a causa della registrazione, il gioco è veramente fluido, veramente carino. Ma la cosa veramente interessante è che in questo caso adesso non fate caso al fatto che lagga perché è dovuto alla registrazione, ma potete veramente interagire con qualsiasi cosa all'interno del gioco. Vedete potete aprire e chiudere le porte, premere i tasti, avete tutti i sistemi che potete accendere direttamente cliccandoci, quindi potete poi andare a guidare il vostro bus ed è veramente bello graficamente, è bello come effettistica, è bello come tante cose. Avete il manuale qua, il sistema integrato di gestione, avete la possibilità di guidare insomma e segnalare in questo caso i problemi di screenshot che ho sbagliato a cliccare. Vedete potete guidare. Per il momento la tratta è unica, però è un gioco senz'altro da tenere d'occhio perché a livello di sistema simulativo di guida non è assolutamente male. Graficamente lo si vede, è molto bello. guardate anche solo adesso che siamo andati sotto il ponte non c'è più l'acqua sopra. Adesso poi devo sempre capire come lasciare il posto di guida perché veramente devo prenderne bene le meccaniche. Cliccando si attiva il mouse, qua ovviamente non abbiamo la possibilità, ci si può alzare, si può andare in giro per esplorare tutto interamente il nostro bus. Vedete qua, c'è tutto interagibile, potete alzarvi e andare a vedere. In questo caso adesso vediamo un attimino la localizzazione è già in italiano, vedete cruise control, avete il freno a mano, l'aumento di marcia, ma ormai si guida tutto con l'automatico, almeno tutti i bus sono... guardate, poi se volete rallentatevi comunque il video per vedere tutte le cose che potete attivare tutte le cose. Interagisci, c'è lo smartphone con il tasto di pausa, che alla fine è questo lo smartphone, quindi la possibilità di vedere la mappa con tutte le fermate che dobbiamo fare. E poi, niente, questo è la visuale in prima, in terza persona, questo è un bus a due piani, che voi potete guidare, vedete che sto andando un pochino a rischio. Allora, vi consiglio di comprarlo adesso? Allora, di base vi direi di no, nel senso che non avreste molto da fare se non il fatto di magari guidare, farvi l'unica tratta che c'è, magari personalizzandola, facendo meno tratta e saltando delle soste. Ma a parte questo, no, vi direi di no. A meno che non siate dei super fan di... dei Pullman, perché al momento c'è poco altro da fare. Ma è un gioco sicuramente da tenere d'occhio, perché una volta che avrà la gestione economica è veramente, veramente interessante. In questo caso, vabbè, usciamo, almeno principale, tenendo premuto. È un gioco che, secondo me, vista anche l'interfaccia, potrebbe prestarsi bene anche per giochi per console. Qua abbiamo un editor che ci permette di personalizzare. È degli stessi autori di, se non sbaglio, Fernbus, perché infatti è distribuito dall'Aerosoft, quindi delle vecchie glorie dei simulatori. Quindi viene aggiornato spesso, però, come vi dicevo, non è ancora finito. Soprattutto non c'è il tutorial, non c'è l'economia. Lo stanno portando avanti piuttosto bene. Quindi dateci un occhio. Spero abbiate gradito queste 3 news e alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!